Ecco i nostri ragazzi sono caricati, i nostri allievi sono tutti caricati, premono che arrivi subito questo 22 ottobre di domenica che sarà la prima giornata di campionato, aspettiamo il calendario che uscirà ufficialmente lunedì 16 ottobre. Renzetto, tutti a fare l'esercizio, disposto, concentrati ragazzi, tutti concentrati, bravo Michele, bravo. Ancora? 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 No, basta. Va. Vede. 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 Vede pezzi. Tornato? Vede. Adesso lo sa, scatto di reni, adesso tocca a Riccardo, scatto di reni, pure lui, ah, stava qua sì. Come lo stai a dire? Guardate, la ferma ci riesce, forse. Il primo giorno che l'ho visto, gli ho detto che può diventare un'ottima attacca. Guardate l'elevazione che c'ha, da fermo, da fermo. Allora, uno che c'ha un'elevazione del genere...